Cala il sipario sulla GP Industries di Fabriano, che cambia nome e va in liquidazione. È l'ennesimo colpo di scena nella vertenza della New Co che fa capo all'imprenditore Giovanni Porcarelli, emerso durante l'assemblea dei lavoratori con i sindacati di scena nella città marchigiana, un tempo capitale della produzione ed elettrodomestici nazionale e internazionale, è oggi simbolo di una storia ultradecennale di annunci, progetti naufragati senza neppure partire ed eterne casse integrazioni. La nuova denominazione è suggestiva, Indelfab, e sta per Industria Elettrodomestici Fabrianese, che nei propositi dovrebbe riassumere i lavoratori dell'ex Merloni, ora è diventata ex-JP Industries. Ma la storia, anche recente, non aiuta ad essere ottimisti. La New Co di Porcarelli di fatto non è mai nata dal punto di vista produttivo, dato che una produzione non è mai avvenuta con continuità, come è stato sottolineato dalle organizzazioni sindacali nel corso dell'assemblea, continuità che, invece, non è mai mancata nell'erogazione di ammortizzatori sociali. Ben otto anni consecutivi, addirittura 12 anni se si considera l'ex Antonio Merloni, il cui comparto del bianco è stato acquisito dalla JP Industries. Gli stabilimenti di Fabriano, di Santa Maria e Maragone e quell'Umbro di Gaifana hanno visto il coinvolgimento di 700 lavoratori, inizialmente riassunti e poi rimasti in 584, equamente distribuiti fra Marche e Umbria. Il 29 giugno scorso il cambio di nome in Indelfab e industrie elettrodomestiche fabrianesi, il 3 luglio la messa in liquidazione. Per anni l'ex Merloni ha riempito pagine di programmi elettorali, conferenze stampa sindacali, manifestazioni di protesta dei lavoratori. Il risultato di questo ricennale percorso appare oggi sconfortante, senza prospettiva concreta, senza un piano industriale, che possa smentire gli scetticismi che la storia di questi anni ha inevitabilmente suscitato. Il 6 settembre scadono gli ammortizzatori sociali ed è la prossima scadenza che preoccupa sindacati e amministrazioni comunali, come confermato dai sindaci di Gualdo, Tadino e Nocera Umbra, presenti all'Assemblea sindacale di Nocera.